In campo per la legalità. Prosegue a Torre Annunziata l'attività di contrasto ai cosiddetti simboli della prepotenza. Nell'ambito dei servizi ad alto impatto disposti dal comando provinciale di Napoli, i carabinieri della locale compagnia insieme a quelli del reggimento Campania e agli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato diverse perquisizioni e posti di controllo rafforzati. Rimosse 20 fiorieri a via Roma e a via Carducci messi abusivamente per l'indebita occupazione dei posti auto lungo la pubblica via. Rimossa anche un'imbarcazione da di porto di circa 4 metri che era parcheggiata senza alcun titolo in via Cavour, sanzionato il titolare. Durante le operazioni militari hanno denunciato un 39enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sorvegliato speciale di pubblica sicurezza dovrà rispondere dell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura a cui è sottoposto e di abusivismo edilizio. I carabinieri hanno accertato che il 39enne aveva realizzato in uno spazio condominiale un ampliamento del proprio appartamento di 12 metri quadrati. L'opera abusiva impediva di fatto l'accesso all'appartamento accanto che era stato sequestrato ad un esponente locale del clan Gionta ed acquisito al patrimonio dell'ente comunale. Identificate 76 persone, controllati 62 i veicoli, 24 le sanzioni al codice della strada, 9 i mezzi sequestrati.